Chi si candida a guidare la città di Bologna nel 2021, quali nodi, quale urgenze dovrà affrontare prima di tutto? Dal nostro punto di vista, essendo sindacato, non possiamo che rimettere davanti il tema del lavoro. Creare lavoro, affrontare una crisi che abbiamo descritto prima e avere in mente che, se ci pensiamo, nella tarda primavera del prossimo anno, i dispositivi del Governo che oggi bloccano i licenziamenti non ci saranno più, sempre che venga mantenuto questo impianto. Quindi vuol dire che avremo potenzialmente davanti una situazione che va a sommare il lavoro che già si è perso con un'ulteriore possibile crisi di posti di lavoro che verranno a mancare. Quindi la prima priorità, scusate il gioco di parole, sarà assolutamente questa ed è questa che noi pensiamo si debba affrontare. Così come si deve affrontare un dialogo con le parti sociali. Noi ci pensiamo come un soggetto che sul territorio è presente, sul territorio è importante e ha bisogno di avere un dialogo con le istituzioni. Ci sono dei settori su cui si può investire per creare nuovi posti di lavoro? Noi crediamo di sì, noi crediamo che questi settori si possono tra loro coniugare, nel senso di fare un'analisi seria tra ciò che non c'è più e ciò che invece può essere offerto. Tra questi il socio sanitario è sicuramente un ambito che sta cercando personale e il manufatturiero sarà un altro di quelli che, se tiene il lavoro, potrà offrire un'occasione di lavoro. Però bisogna coniugare i vasi comunicanti, come si diceva una volta. Ci aspettano mesi e anni di cambiamento. Come immagina Bologna fra dieci anni o come la vorrebbe vedere? Mi consegno alla positività, come un buon sindacalista dovrebbe fare, ci ricordavo un nostro vecchio segretario di una volta. Intanto non fare gli errori e imparare dagli errori che abbiamo fatto, e cioè consegnarci fra dieci anni un sistema sanitario di eccellenza, quale quello che abbiamo, ma rafforzato nei servizi territoriali che hanno dimostrato la loro assoluta necessità in una fase, in una, speriamo di dire, contingenza di questo genere. Questo deve rimanere anche nel futuro. E poi sciogliere un po' di nodi che non sono stati sciolti in questi anni, e cioè pensarsi città metropolitana. Bologna non può essere solamente il comune più grande all'interno di un territorio, Bologna deve fungere una funzione di collettore, di dialogo all'interno di una più grande territorio, che è la città metropolitana, che va dalla montagna alla pianura al circondario imolese e che come insieme di territorio può sviluppare il futuro del lavoro su questa città.